Edizione del Gran Galà di fine stagione, ci fa molto piacere averti qua con noi. Ovviamente sia tu che la tua squadra di D'Alfa, con chi abbiamo il piacere di parlare e da dove vieni? Io sono Filippo Ruggeri, presidente del mio club Iesolo, quindi da qui vicino a Iesolo. È la tua prima volta al Gran Galà, cosa ti ha spinto a partecipare e cosa potrà essere di monito per poter tornare eventualmente il prossimo anno? Beh, siamo amici con Stile Alfa Romeo, un club che è una bella realtà qui nel Friuli e anche nel Veneto. Noi siamo un club veneto e siamo sempre venuti al Gran Galà, tranne qualche area d'eccezione, quindi è un appuntamento fisso nel nostro calendario. Cosa ne pensi di questa manifestazione degli organizzatori del club Stile Pro? Bellissima passione, tanta amicizia, tanta passione, quindi è un bellissimo raduno a cui partecipare. Definisci cosa rappresenta Alfa Romeo nella tua vita di tutti i giorni e come vivi questa passione? Alfa Romeo è un modo di vivere che alcuni non capiscono, ma se cominciano a provarlo si avvicinano. Sono alfista da tre generazioni, quindi è un modo di essere, è un modo di vivere. Intanto ti ringrazio per essere stato qua con noi per questa breve intervista. Ti auguro una buona giornata. Grazie a voi. Grazie a voi.